Vabbè Oh raga, la volta che carreri do Allora Francesco L'ultimo pezzo, attenzione Dai, cosa puoi innamalare Siamo tutti stessi Ma ce lo guardavo Ma guardate Ricordate quello che ti invattevo L'ultimo pezzo è dedicato alle persone che rompono un po' i coglioni Tipo Marco Oppure qualcuno che dà proprio fastidio Chiaro, sta chiaro Roccia Si intitola E dai Però è l'inglese, nel senso E muori E dai Ma più o meno così Forse volendo E dai Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.